Si risveglia Boko Haram in Nigeria e lo fa in maniera terribile. Nell'ultima settimana l'organizzazione terrorista ha ucciso oltre 200 persone in vari attentati. La sera di domenica sono stati attaccati una moschea e un ristorante di Joss nel centro del paese. In tutto 44 persone sono state uccise nei due attacchi, mentre 67 sono state ferite. L'attacco al ristorante è stato compiuto con una bomba, mentre la moschea è stata attaccata da un attentatore suicida. Il ristorante era frequentato da altri funzionari. Fra le spiegazioni sul perché dell'attacco alla moschea, invece, anche l'ipotesi che si sia trattato di un assassino mirato e fallito contro Sani Yahya Jinjir, un imam locale che predica una dottrina dell'islam pacifica e che si sta costruendo una credibilità nella regione. Per i terroristi, una minaccia da eliminare.